Infortunio mortale sul lavoro stamani in un'azienda tessile di Montale in provincia di Pistoia. Un operaio di 23 anni, residente a Prato, è morto schiacciato sotto una pressa. Sul posto sono intervenuti sanitari inviati dal 118 ma per il giovane di origine tunisina non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. L'infortunio mortale si è verificato in una ditta di filatura a cardato. Da quanto ricostruito dai tecnici della ASL, il 23enne, dipendente dell'azienda tessile, stava lavorando a una macchina automatica a privalle. Pare volesse pulirla quando è rimasto schiacciato dalla stessa. Il giovane è morto sul colpo. I colleghi hanno subito chiamato il 118 ma i soccorsi, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 23enne. È il secondo incidente mortale sul lavoro in Toscana in due giorni. Ieri in un infortunio avvenuto a Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa aveva perso la vita un uomo di 51 anni, titolare di una ditta di termoidraulica, che stava effettuando una manutenzione a una cisterna in una conceria. È inaccettabile continuare a morire di lavoro, è una sconfitta per tutti e nel momento in cui si muore di lavoro non esiste più il diritto al lavoro previsto dalla nostra Costituzione. È il commento del segretario generale della CGL di Pistoia, Daniele Gioffredi, e del segretario della Filctem, Massimiliano Brezzo. Purtroppo, nonostante si vada verso una digitalizzazione sempre più spinta del mondo del lavoro, aggiungono Gioffredi e Brezzo, si continua a morire come nel secolo scorso e finché ci sarà necessità del patrimonio umano, che è un valore ed ha dignità, occorre investire in sicurezza, che invece spesso è considerata solo un costo, così come nella prevenzione e nella formazione permanente a partire dalle scuole.